Il sequestro in quella che allora era la sua farmacia in centro storico avvenne nelle prime settimane dell'emergenza covid di quattro anni fa. Gli venne contestata la commercializzazione di mascherine protettive non conformi e già scadute. Il giudice Antonio Fiorenza a conclusione del dibattimento ha assolto Leonardo Bordonaro. I militari e la guardia di finanze effettuarono controlli e trovarono uno stock di mascherine senza relativo marchio e indicate come già scadute. In giudizio l'imputato attraverso il legale Giuseppe Donegani ha ribadito ciò che sostenne anche nel corso delle indagini come riferito alla difesa. Infatti quelle forniture di mascherine erano state appena effettuate alla sua farmacia e il titolare non aveva ancora avuto modo di verificarle. La difesa ha sottolineato che erano state messe in vendita. Lo stesso Bordonaro si disse danneggiato da chi aveva consegnato alla sua farmacia la procura in aula con il PM Tiziana Di Pietro ha invece richiesto la condanna individuando responsabilità dell'imputato. Il giudice ha però emesso un dispositivo con formula assolutoria.